Ragazzi innanzitutto vi do il benvenuto in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi come avete letto dal titolo un video molto particolare in quanto andremo a parlare della mappa del capitolo 3 di Fortnite Da pochi giorni infatti sta spopolando sul web, su internet, su youtube e davvero ovunque questa nuovissima mappa di Fortnite Che al momento sembra essere quasi quella ufficiale del capitolo 3 Quello che andremo a fare oggi sarà una cosa molto molto importante La andremo a studiare bene, andremo a vedere tutte le città e andiamo a vedere se sarà effettivamente questa la mappa del capitolo 3 Oppure se è solamente un concept Mi raccomando però subito un bel mi piace, buttiamoci in partita Andiamo ad analizzare la mappa e ragazzi vi ricordo subito pollicione in su e codice Lollopollo all'interno del negozio oggetti Vi dico la verità, io questa mappa l'ho già intravista e un po' studiata e secondo me è davvero fatta bene Ossia mi spiego, ci sono tantissime città, ci sono tantissime zone e tantissime località in cui fare molte cose per Fortnite Potrebbe infatti sfruttare tutte queste zone per creare nuovi boss, per creare nuove funzioni del gioco Per creare dei nuovi veicoli, per creare delle nuove funzioni insomma Quello che andremo a fare oggi sarà oltre ad analizzare la mappa appunto Sapere anche la vostra qua sotto nei commenti Perché vi ricordo che voi potete partecipare attivamente ai video, basterà commentare qui sotto ragazzi Vi ricordo di farlo, fatemi sapere cosa ne pensate della mappa appena la vedete Fatemi sapere se secondo voi può essere veramente la mappa del capitolo 3 oppure no Davvero un sacco di cose Me ne sono atterrato qui a gatto, grill e daga, su questa montagna In modo da essere belli tranquilli per parlare senza rotture di scatole da parte dei nemici Il problema è che non ci sono armi Bene, questo non lo avevo considerato purtroppo, quindi andiamo qua che ho visto una cassa Prendiamo il loot, vi farò vedere subito la mappa del capitolo 3 O almeno quella che si dice essere la mappa del capitolo 3 E la andremo a studiare tutti quanti insieme Io sinceramente non vedo l'ora che questa stagione finisca Non solo perché non mi piace Ma voglio anche cercare di capire come finirà questa stagione Perché questi cubi sulla mappa, queste linee marroni sulla mappa Oppa, no, 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 che fai, che fai, che fai, che fai amico mio Che fai? Non ci credo, sono morto Parlavamo delle spaccature marroni all'interno della mappa Dall'alto sono ancora più evidenti Tutte queste spaccature, raga, potrebbero provocare una frammentazione della mappa Non so come dirvela E è proprio la frammentazione che vediamo all'interno di questo concept della mappa Raga, lo state vedendo in questo momento Iniziamo un po' a parlarne così entriamo nel vivo del video Perché questo concept mi fa letteralmente impazzire E io è proprio così che vorrei Fortnite Con tutte queste zone da esplorare e soprattutto queste zone diverse Non una singola mappa tutta completamente uguale Perché in questa stagione, raga, la mappa, a parte questa montagna È tutta, e dico tutta, completamente identica Non ci credo che c'è un altro nemico qua, raga Io, no, 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 ci sono troppi nemici, raga Dove vado? Dove atterro? Atterro in qualche montagnola qua dispersa Perché secondo me è la cosa migliore da fare Da come state vedendo sulla mappa Ci sono tantissime nuove città Ma soprattutto anche tantissime vecchie città Che hanno fatto il rientro in questa super mappa del capitolo 3 Sperando che sia vera, raga Perché intravedo pinnacoli pendenti Intravedo il lago del bottino Non so chi di voi se lo ricorda Ma era davvero il lago più storico di Fortnite Comunque adesso, con molta calma Ce la andiamo ad analizzare Perché non voglio passare troppo a conclusione Affrettate e dirvi che questa sarà la mappa ufficiale Perché non mi sembra giusto Dato che non è vero Però ci sono molte teorie per cui questa mappa Potrebbe essere quella vera Oppure una sorta di mappa vera Intanto vedete come ci sono tutte queste isolette Che potrebbero... No, 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 un nemico qua No, raga, ma mi state prendendo in giro No, 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 raga Qua mi state prendendo in giro Questa volta con i server privati Dato che non ci saranno nemici Nessuno mi può far fuori A meno che non mi uccida qualche bot Qualche scagnoso Ma spero proprio di no, raga Comunque ricominciamo Ricominciamo con calma Queste spaccature marroni A fine season Potrebbero essere quelle che distruggeranno per sempre la mappa E la faranno cambiare Effettivamente potrebbe essere così Questo lo stare... No, non mi uccidere, amico mio Non mi uccidere perché io impazzisco, eh Ok, dicevo, queste spaccature Dato che potrebbero essere quelle che faranno spaccare la mappa E farla diventare così Tutta a isole, raga Sarebbe davvero qualcosa di pazzesco O sbaglio? Eh, potrebbe essere una coincidenza Ma andiamo avanti Perché le coincidenze a questo punto sono davvero tante Innanzitutto Andiamo ad analizzare per bene la mappa In alto a destra, raga Iniziamo subito con una super zona glaciale Ghiacciata Non so come chiamarla Si chiama Glossy Glacier Quindi un ghiacciaio Una sorta di zona ghiacciata Davvero, davvero Carino Pieno di montagne, di grotte Una piccola città Un laghetto Una barca E davvero tante altre cose Sembra essere una mappa molto, molto grande Effettivamente Quasi, direi, il doppio di questa che abbiamo adesso Andando avanti ci sono le rovine dell'est Figo Le rovine dell'oceano, ragazzi Una sorta di Atlantide Poi abbiamo Fortia, Frosty Qualcosa del genere Che dovrebbe essere una zona completamente congelata Una zona completamente congelata Della Fortia Non so chi se la ricorda C'era un po' di stagioni fa Poi troviamo varie barche in giro Troviamo una sorta di Colosseo, raga Delle montagne Loot Lake Dirty Docks Che se non sbaglio è Moli Molestia Adesso non voglio essere sicuro Poi c'è un'altra città Molto, molto carina, raga In basso a destra Guardate qua Guardate qua Sulla mappa In basso a destra Che cosa troviamo? Troviamo Blooming Blossom Una cosa del genere Non so che cosa significhi Ma come zona Sembra essere abbastanza carina L'unico problema è Secondo voi L'acqua Cioè Si potrà andare in acqua Oppure no? Perché c'è talmente tanta acqua, raga Che se un nemico va a nuotare Praticamente non finisce più la partita Questo potrebbe essere uno dei tanti problemi di questa mappa Proprio l'acqua Si avete capito Mi sembra un po' strano che ci sia tutta quest'acqua Ma magari Aggiungeranno nuovi veicoli Magari aggiungeranno dei nuovi modi per muoversi dentro l'acqua O cose del genere Passando Sempre più sotto Troviamo anche una sorta di barca Chiamata The Deck Secondo me quella barca sarà molto utilizzata Se Sarà questa la mappa Sotto troviamo Lago Languito In un'isoletta dispersa in basso Con Trusti Turbines Che sembrano essere Delle paleoliche giganti Questa mappa Sembra essere molto molto carina E completa Ha un sacco di città Tilted Tower Quindi pinnacoli pendenti Loot Lake Una sorta di Come si chiama raga? La fortezza questa qui in alto Della mappa Non mi ricordo mai come si chiama Fortezza furtiva tipo Ce n'è una molto simile raga Si chiama Bushy Barricade Che dovrebbe essere una sorta di barricata Per Dei cespugli Ok non lo so Non lo so che cos'è raga Tranquilli Al centro della mappa invece c'è una zona molto misteriosa Con una sorta di potere Una sorta di Non lo so Sembra essere qualcosa di magico Sembra essere una sorta di zona mistica Con tre punti interrogativi Che magari ti daranno qualche potere All'interno del gioco Andando avanti In basso Regà Sempre troviamo una zona molto deserta Con Tante cose desertiche Delle piramidi E varie cose Mi piace il fatto che Negli angoli della mappa Ci siano queste rovine Dell'oceano Molto carine A sinistra ci sono le zone Un po' più Paludose Come Mossy Marsh Che dovrebbe essere pantano Regà Più o meno E a sinistra c'è anche La mansione del mostro Quindi potrebbe esserci Un boss mostro Da sconfiggere Che magari ti dà qualche arma In alto troviamo un vulcano E E basta Basta Alla fine ci sono un po' Di altre città carine Ma niente di che Ci sono montagne C'è la foresta gigante E Voi direte Ok Questa mappa Sembra essere fatta Da qualcuno Sembra essere un concept E ragazzi Se vi dicessi Che Fortnite Un po' di giorni fa Postato questa cosa Che state vedendo qui Per Una nuova modalità Chiamata Arena Late Game E sembra proprio Corrispondere a Questa mappa qui Se ci fate bene caso Infatti Sembra proprio Che l'inquadratura Di questa foto Che state vedendo In questo momento Sembra proprio Riprendere Pinacoli pendenti Con dietro Delle montagne E un lago Proprio come vediamo Nella mappa Infatti nella mappa Troviamo Pinacoli pendenti Con dietro un lago E poi le montagne Io Non vorrei Trarre conclusioni Azzardate Ma magari Questo è un disegno Della mappa Che l'Epic Sta progettando E non è ancora Fatto in versione Fortnite Perché vedete Fortnite è tutto Bello giocoso Colorato Questa sembra un po' Più seria Come mappa Magari è solo Un disegno di prova E magari era un test Che Fortnite Sta facendo E questo test È stato divulgato Magari da qualcuno Però le coincidenze A questo punto Sono davvero tantissime Sono quasi infinite Un'altra cosa Che mi fa pensare Che questa mappa Potrebbe essere Quella del capitolo 3 Oltre al fatto Appunto che Fortnite ha postato Un'immagine Un'immagine molto Ma molto simile È il fatto che Secondo me Come mappa Del capitolo Potrebbe essere Molto interessante C'è infatti Il ritorno Di Pinnacoli C'è il ritorno Di Loot Lake Ci sono un sacco Di nuovissime zone Ma davvero un sacco Regà praticamente C'è tutta la mappa Da esplorare Con tantissimi segreti Sicuramente Qualche bunker Segreto Qualche nuovo boss E davvero Chi più ne ha Più ne metta Soprattutto Quel potere Al centro Mi mette un sacco Di hype Potrebbe davvero Essere così la mappa Io spero proprio di sì Anzi Secondo me È davvero fatta bene L'unico problema Appunto È che è un po' grande Sarà un po' difficile Scappare dalla safe Sarà un po' difficile Nuotare in tutta Quest'acqua Ma magari Fortnite Aggiungerà Delle pinne Per nuotare più veloce Dei motoscafi Delle moto d'acqua Delle macchine più veloci Dei nuovi jetpack Delle cose Non lo so Regà Fatto sta che a me Piace davvero tanto Ma adesso passiamo Alla cosa più importante Ci sarà davvero Il capitolo 3 Oppure è solo Tutta una Una messa in scena Tutta una diceria Secondo me potrebbe Davvero esserci Infatti Un collaboratore epic Pochi giorni fa Ha risposto a una domanda Molto interessante A un fan che chiedeva Capitolo 9 No si Capitolo 9 Vabbè Siamo arrivati nel 2050 Dicevo Capitolo 3 O stagione 9 E lui ha risposto Solamente il tempo Lo dirà In questo modo Non ha detto no Non ha escluso definitivamente La pista del capitolo 3 E lo stesso Donald Master Lo ha fatto Quindi Staremo un po' a vedere Domanda finale Secondo voi Se ci sarà davvero il capitolo 3 Questa mappa Sarà giocabile Vi piacerà Oppure no Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti Comunque non so se avete notato Lo smalto Si regalo Lo smalto è stata una challenge Su Instagram Se non mi seguite Ancora andatemi a seguire Per partecipare a queste Strane challenge Ecco Sì Molto strane Che dirvi Grazie mille a tutti Per aver seguito Questo video Molto attentamente Fatemi sapere i vostri pensieri Su questa famosissima mappa Del capitolo 3 Che sta spopolando In tutto internet Andatemi a seguire su Instagram Per non perdervi Queste storie Mi raccomando E niente Codice Rollo Pollo Nello shop Noi ci becchiamo domani In nuovissimi video Un saluto a tutti E grazie per la partecipazione Ciao ciao ragazzi